Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e in Cisaregello in direzione Roma, coda di un chilometro ma a causa di lavori anche in FIPI lì tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e possibili disagi anche in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che in vigore uno scambio di carreggiata tra Imprunete e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola si ricorda che a causa di lavori al muro di contenimento al chilometro 89-970 vigore un senso unico alternato con restringimento di carreggiata in località Anchetta nel comune di Fiesole. A Firenze è chiusa via dell'Oriolo a causa di uno scavo urgente con possibili disagi alla circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!